Musica Ben trovate l'appuntamento con dentro il consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, sono due gli argomenti in questo nostro incontro, la prima parte del nostro appuntamento la dedichiamo alla seconda variazione di bilancio, l'intervento illustrato dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali con i due proposti di legge votati a maggioranza e alcuni ordini del giorno collegati ai due atti. E poi parliamo delle controversie telefoniche, un seminario a Firenze firmato Corecom e quindi c'è l'illustrazione omnicomprensiva sul complesso dei provvedimenti di natura finanziaria e programmatica, gli interventi normativi collegati alla seconda variazione di bilancio di previsione finanziaria del 2004-2026 con la conseguente proposta di legge di variazione che, come abbiamo detto nel nostro sommario, è stato presentato all'Assemblea con un'esastiva panoramica sulla manovra dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali. Dopo l'illustrazione c'è stato il Presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni che ha parlato degli emendamenti presentati alla seconda variazione di bilancio e poi ha proseguito il dibattito in Aula. Ricordiamo che l'Aula ha votato le due proposte di legge a maggioranza, hanno votato a favore PD, Italia Viva e contro Fratelli d'Italia, Lega Movimento 5 Stelle. Sono stati approvati alcuni ordini del giorno collegati ai due atti. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale comporta una variazione sul fronte delle entrate e delle spese del bilancio regionale che è pari a meno 26 milioni per il 2024, quasi 2 milioni per il 2025 e 49 milioni per il 2026. Si tratta peraltro di una variazione a cui farà seguito a breve una seconda variazione prevista per il mese di novembre in attesa poi dell'approvazione del bilancio preventivo del 2025. È una variazione nella quale si registrano alcuni spostamenti importanti di risorse sul fronte sanitario, già che gli oneri del debito del servizio sanitario passano dal fondo sanitario regionale al bilancio regionale, quindi gravando sul bilancio regionale occorre andare a sostenere questi nuovi aggravi attraverso le risorse derivanti dal maggior gettito collegato alla manovra che si è compiuta sull'addizionale regionale IRPEF. Un'altra importante variazione è quella relativa agli investimenti sulla programmazione comunitaria. c'è una sensibile riduzione di tutte le quote, quindi quelle dell'Unione Europea, dello Stato e quindi anche della Regione, sulle annualità 2024 e 2025, un corrispondente incremento sull'annualità 2026. È una variazione che peraltro interviene in maniera importante sui temi della cultura con uno stanziamento di 10 milioni di euro, di cui quasi tutti destinati allo spettacolo, una parte come di consueto destinati per un milione alla fondazione del Carnevale di Viareggio e per 660 mila euro alla fondazione del Festival Pucciniano. Attraverso questa variazione vengono poi messi a disposizione tutta una serie di risorse che sono destinate ai comuni per far fronte o a esigenze che sono collegate alle strutture di arie dei territori comunali oppure all'esigenza di dover intervenire su strutture esistenti che siano immobili adibiti ad uso scolastico oppure a scopo sanitario o aventi finalità culturali. Si tratta quindi di una variazione che incide su molte richieste che sono pervenute dai territori alla Regione e tocca anche in maniera sensibile il tema degli impianti sportivi, già che sono previsti in parte sul 2024 ma in maniera più preponderante sul 2025 una serie di stanziamenti che sono finalizzati proprio a completare i lavori o a curare la manutenzione di impianti sportivi diffusi sul territorio regionale. Una misura quindi quella che viene adottata con la variazione approvata dal Consiglio che va ad intervenire nell'ottica di una Toscana diffusa su tutti i territori della Regione e lo fa soprattutto recependo le richieste che sono arrivate dai territori per far fronte ad alcune difficoltà che soprattutto le amministrazioni comunali hanno incontrato negli ultimi anni. Discussione come sempre impegnativa quella sul bilancio perché si discute poi in maniera ampia di tutte le questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini toscani tante le risposte che vengono date specialmente per quanto riguarda gli impianti sportivi noi abbiamo deciso in questi anni di investire molto sull'impiantistica sportiva perché è un modo per dare risposte non solo ai singoli territori ma anche alla socialità più diffusa interventi sulle scuole anche questo è un tema che sta molto a cuore se noi offriamo alle bambine e bambini toscani delle scuole migliori sono convinto che anche la loro qualità dell'apprendimento nel tempo può crescere ed è da tanti anni che non si sveste molto negli impianti sportivi, nell'edilizia scolastica e queste sono le scelte principali che abbiamo portato avanti in questa variazione di bilancio cercando di porre sempre attenzione a quei territori che soffrono un po' di più quelli che sono un po' più indietro perché poi l'idea della Toscana diffusa passa anche attraverso le azioni che noi facciamo e si vede benissimo in questa variazione di bilancio Sì, un atto importante che consolida il bilancio della regione toscana nel 2024 che porta i conti in equilibrio, che dà alcune risposte importanti ai comuni toscani in maniera diffusa ma che soprattutto mette in equilibrio risorse è evidente che collegandosi a questo c'è il DEFRE sul quale noi continuiamo una battaglia di principio quella di ridurre le tasse ai cittadini toscani Tel Aviva non è stata mai favorevole ad aumenti di tasse ha ragione sul fatto che le risorse le devono pagare le aziende farmaceutiche c'è il payback, la Regge è cogente, la Corte Costituzionale ha dato ragione alla nostra battaglia politica ci aspettiamo che nelle prossime settimane venga fatta questa riduzione delle tasse venga scritto in bilancio quelle risorse che necessitano e che come tale i cittadini toscani trovino un alleggerimento della loro pressione fiscale e chi di dovere paghi quello che deve alla nostra regione in questo caso il governo deve assumersi la propria responsabilità nel garantire le regioni del credito delle quali hanno diritto di riscuotere si pensa al singolo comune, si pensa alla singola parrocchia addirittura al singolo teatro, non ti pensa però alla regione toscana e non c'è un'idea verso il futuro noi la nostra idea l'abbiamo sempre manifestata in questi anni è l'idea di una Toscana che non sia soltanto un mega villaggio turistico certo la Toscana ha dei numeri importanti in materia turistica e bisogna fare un'adeguata promozione del nostro territorio ma non si può e non si deve vivere di solo turismo anche perché il lavoro che è legato al turismo è un lavoro stagionale noi abbiamo necessità di sostenere convintamente la nostra tradizione manifatturiera e invece vediamo che siamo in difficoltà specialmente in certi settori come la moda, il cuoio, la pelletteria, le calzature e riteniamo che invece i settori come l'alimentare, l'energia, l'alta tecnologia debbano essere strategici e che dobbiamo investire per non essere totalmente dipendenti per esempio in campo energetico La variazione di bilancio non fa altro come in altre circostanze che continuare a elargire delle somme laddove si deve correre a ripari per disagi, problemi, questioni riguardanti comuni sicuramente meritevoli ma la variazione così come il documento economico-finanziario nel complesso continuano ancora a distanza di anni a mancare di una loro coerenza interna di una sistematicità e soprattutto non fanno vedere quella che dovrebbe essere una visione della Toscana che va al dopo 2025 perché dobbiamo ricordare che stiamo andando verso la fine della legislatura così come è cominciata in maniera estremamente caotica così sta proseguendo e secondo noi non è questo il modo migliore per riuscire a governare la Toscana, una regione in generale in una situazione anche di governo nazionale molto carente nelle risorse in cui le risorse ci sono perché la Toscana le ha, sono 13 miliardi di bilancio complessivi molti dei quali finiscono in rivoli, perdite, sprechi che in qualche modo non devono essere razionalizzati ma meglio investiti alcuni esempi per esempio sono delle fondazioni o alcuni centri che negli anni hanno assorbito tantissimo denaro e che nel corso degli anni comunque si hanno continuato a richiedere pur non riuscendo a saldare, a arrivare a un saldo positivo del proprio bilancio un'altra cosa che ci ha detto la Corte dei Conti è di quanto le partecipate della regione toscana siano completamente fuori del controllo dell'ente ecco lì vanno a finire molte risorse questi sono dei motivi per cui la situazione del bilancio e degli investimenti in sanità soprattutto è estremamente a rischio in tutta la regione si è trattato di una discussione molto articolata perché in un unico intervento abbiamo dovuto condensare un giudizio su quattro provvedimenti due di carattere programmatorio e gli altri due invece legati al bilancio 2024 in particolar modo la variazione si riferisce a tantissimi interventi puntuali sui quali è difficile dire di no per ogni singola questione ma è chiaro che il Presidente Gianni ormai ha iniziato la sua campagna elettorale la sostiene con interventi mirati soprattutto a favore di amministrazioni di un certo indirizzo politico l'unico intervento secondo noi veramente urgente e necessario era ed è l'intervento per la laguna di Orbetello a sostegno del Comune perché lì si è verificata una situazione di vero e proprio disastro ambientale che ha richiesto misure eccezionali per quanto riguarda la programmazione invece si naviga a vista non si tiene conto per noi a sufficienza del complesso e preoccupante quadro economico internazionale derivante dai conflitti che si stanno purtroppo incrementando soprattutto nel Medio Oriente di quanto questi incidano sull'economia reale della Toscana ci sono settori che sono in grande difficoltà che avrebbero bisogno di una guida forte da parte della Regione per programmare i propri investimenti e per superare questo periodo di crisi temporanea in realtà si assiste al vivere giorno per giorno e a documenti di programmazione che arrivano all'attenzione del Consiglio con grande ritardo rispetto ai tempi dovuti e che impediscono quindi di fare una discussione soprattutto riflessioni serie molto più articolate è il caso in ultimo delle aziende partecipate assistiamo nuovamente allo spostamento in avanti dei termini per la soluzione definitiva per Firenze Fiera, per Fili Toscana, per Sviluppo Toscana tutte situazioni che attengono direttamente all'economia regionale perché si tratta di società che in qualche modo incidono nella carne viva delle nostre imprese e questo per noi è un elemento molto negativo risoluzione delle controversie telefoniche alfabetizzazione digitale il Corecom della Toscana ha organizzato un seminario nazionale dove appunto il titolo che fa concilia insieme in collaborazione con la Gcom l'autorità nazionale per le garanzie delle comunicazioni l'incontro ha visto la partecipazione di 10 altri Corecom regionali oggi è una giornata importante perché poi alla fine in queste iniziative servono per dare risposte alle cittadine e ai cittadini perché da un lato è giusta la competizione che c'è tra gli operatori dall'altra però deve essere garantito al cittadino di poter accedere ai migliori servizi al prezzo più corretto e la competizione porta proprio a questo e questa iniziativa serve a costruire maggiore sensibilità tra i cittadini nel conoscere che esiste un luogo il Corecom in cui le controversie, quelle telefoniche specialmente possono essere gestite, possono essere valutate e può essere data risposta evitando un contenzioso di tipo legale secondo noi è un tema sicuramente di grande rilevanza quello di far conoscere ulteriormente i servizi del Corecom e in questo specifico tutto il tema delle conciliazioni noi anche nel 2023 abbiamo ricevuto oltre 4.900 istanze gran parte di queste poi oltre l'80% giunge a un accordo in fase di conciliazione e restituiamo attraverso questa opera a titolo gratuito oltre mezzo milione di euro nei confronti di cittadini e imprese che appunto hanno degli indennizi rispetto a queste controversie telefoniche c'è un tema generale di alfabetizzazione digitale su questa tematica perché si accede attraverso la piattaforma del concilia web per cui c'è questo tema generale di formazione che anche la Toscana deve in qualche modo vedere sempre crescere e favorire e poi c'è un tema anche di stare attenti a chi si spaccia per il Corecom ed esistono dei casi noi invitiamo appunto ad agire attraverso tutti i canali ufficiali canali istituzionali sia del concilia web sia del numero verde sia del sito in modo da non avere fraintendimenti e tentativi di truffa oggi parliamo di concilia web una piattaforma digitale attraverso le quali i consumatori possono risolvere le proprie controversie e uno dei temi che abbiamo affrontato oggi è proprio quello di non lasciare indietro nessuno quindi l'importanza di fare in modo che le tecnologie da un lato aiutino gli utenti a risolvere i propri problemi ma dall'altro consentano anche a chi non ha la possibilità di un accesso digitale di risolvere ugualmente le proprie problematiche e questo era anche l'ultimo servizio per dentro il consiglio vi ricordo per tutte le informazioni di lucidazione www.inconsiglio.it io vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento fra sette giorni sempre dentro il consiglio www.inconsiglio.it www.inconsiglio.it